Dopo l'arresto ad opera dei carabinieri dei due giovani di Licata e di Naro presunti responsabili di una violenta aggressione a scopo di rapina a danno di un anziano di 86 anni di Naro, ascoltiamo in proposito ai risvolti investigativi a più ampio raggio il comandante provinciale dei carabinieri di Agrigento, il colonnello Giovanni Pellegrino, che tra l'altro invita i cittadini alla collaborazione. Si tratta di due giovanissimi, un 22enne ed un 17enne di Naro. Le indagini sono state immediate e si sono avvalse anche di una sorta di controllo di vicinato, nel senso che molti elementi, piccolissimi elementi, sono stati sviluppati grazie anche a qualche segnalazione pervenuta al 112. Questo ha consentito appunto di arrivare all'identificazione degli autori. Quello che ci auspichiamo è che questa collaborazione ci possa essere non solo nella fase repressiva, ma anche nella fase preventiva, perché poter così porre l'attenzione su soggetti sospetti che si aggirano in aree rurali oppure insolite ci può consentire di identificarli oppure di intervenire anche nella flagranza di reato.